stiamo facendo l'ultimo video della passerella di quel che rimane dell'ultimo tronco spero che col mio peso non crolli sto scherzando questo sarà un ricordo unico ed eccolo laggiù stanno già hanno già tolto tutto poi verranno a togliere questo pezzo pensate un po' che tutta la sabbia che è rimasta qua passava sopra guardate qua passava sopra anche qui poiché rimane tutta sabbia questo andrà tutto via ed è tutto